per lo sport. Sì, allora io sono onorata di poter essere madrina a un evento così importante, a un evento che si svolge nella mia terra e che quindi può essere un'opportunità per far conoscere ancora di più questo evento comunque rinomatissimo e per me è un grande orgoglio appunto il giorno dell'apertura di questa gara poterci essere e poter fare l'imbocca al lupo a tutti i concorrenti per un grande traguardo. Io sono innanzitutto contenta di poter tornare sulla neve perché immagino che quest'anno tra i vari impegni che avrò appunto per il titolo di Miss Italia non avrò l'opportunità di vedere spesso la neve e quindi per me tornare sulle piste da sci in particolare per uno sport che mi ha sempre attirato quello dello sci di fondo ma che non ho mai potuto diciamo praticare è una cosa importante perché mi piacerebbe in questa occasione cimentarmi in questa nuova disciplina. Sì, una stagione che vede la dodicesima edizione del Tour de Ski quindi il 6 con due gare a tecnica classica e la domenica la chiusura con la final climb classica finale del Tour de Ski di Coppa del Mondo poi il 12, 13, 14 gennaio con un trittico di combinata nordica organizzeremo due gare individuali e una team sprint per poi proseguire nell'estate con il 15-16 la finale della Coppa del Mondo di Ski nonché la gara della Long Distance della Guide World Classic Tour Sì, tante novità per festeggiare questo anniversario siamo pronti, aspettiamo la neve e se non arriva la faremo comunque noi ci impegniamo tutto l'anno per offrire a tutti i nostri clienti chiamiamoli così, comunque sono i nostri sportivi, i loro familiari, i loro amici che vengono a sostenerli, un evento che rimanga nel ricordo come tutti gli eventi precedenti e che possano goderselo nelle nostre meravigliose vallate Sono bella che pronti a fare questa 45esima marcia longa adesso aspettiamo la neve, se non la vengono la facerò che hanno fatto gli ultimi anni e spero che va tutto bene e che sia tutti contenti di questa marcia longa che sono contenti di dire che è l'unico evento che tiene insieme queste due vallate che è l'ora che dà insieme a tutti i paesi per ospitare e per far divertire tutti chi che vengono a visitare e a tornare la gara Sì, assolutamente è una bellissima esperienza perché credo che sia un onore poter essere parte di questa grande famiglia che è la marcia longa e speriamo che vada tutto bene come è andato tutti gli altri anni Beh, penso che sia un onore per essere parte di questa esperienza e di questa marcia longa e spero anche che vai a tutto bene e che esiste in passare Grazie